ciao a tutti amici di camarata web tv dalla vostra maria teresa rotola e ben trovati con il nostro appuntamento con potenziamo la nostra spiritualità dunque facciamo entrare innanzitutto il collega co conduttore marcello monti ehi ciao 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 a tutti ciao pubblico di camarata ciao pubblico della spiritualità spero di aver detto tutto scusate ho avuto una settimana difficile eh vabbè succede dai capita capita la nostra follia ha una forma e un nome ben definito anzi un doppio nome aria condizionata mamma mia tra parentesi nei supermercati micidiale quanto è vero è verissimo allora stasera un ospite per me anche a livello insomma affettivo fondamentale importante perché lo conosco da tanto tempo e sin da tempi non sospetti c'era comunque questo questa predisposizione del maestro attuale maestro di tai chi vittorio tangari e quindi sono molto molto felice insomma che sia con noi stasera sia per la stima che ho come professionista sia dal punto dal punto di vista affettivo vittorio tangari maestro di tai chi e parliamo di confu buonasera a tutti ciao maria teresa ciao buonasera buonasera ciao vittorio ah benissimo ce lo fai rivedere questo che rappresenta un cerchio rappresenta quello che poi è yin e yang che cielo e terra tutto quello che sono gli opposti da cui poi il kung fu in linea generale si ispira cioè molti stili di kung fu si ispirano in particolar modo il tai chi cioè il taoismo ah ok quindi spieghiamo bene questo discorso del del tai chi quindi quale è lo stile di che cosa spieghiamo di nuovo è si definisce kung fu quelli che sono l'insieme degli stili almeno noi occidentali con con cui diremmo kung fu quelli che sono l'insieme degli stili cinesi e di arti marziali il tai chi è uno di questi stili di arti marziali giusto per precisare tra l'altro in questa lezione di questa foto c'ero anche io c'è da dire per essere precisi e per non essere linciato da altri istruttori di kung fu in particolar modo kung fu non significa arte marziale come molti di noi possono pensare come si pensa in generale ma kung fu significa abilità raggiunta attraverso duro lavoro quindi kung fu è anche il panettiere che fa un ottimo pane perché ci ha lavorato negli anni e perché è stato molto bravo a raggiungere un determinato tipo di abilità poi noi siccome ci sono paroli molto simili in cinese l'abbiamo utilizzato soprattutto per le arti marziali quindi oggi kung fu per l'occidentale è anche quello tra l'altro una cosa che a me piace spesso fare e cercare di occidentalizzare per farlo comprendere meglio a chi non è molto addentrato e non ha studiato per anni quello che è la cultura orientale tutto quello che riguarda appunto ciò che viene appunto dalla dall'asia e dalla cina in particolar modo perché io poi mi rifaccio molto a quel tipo di cultura antica attenzione vittorio mi sono per la cultura cinese mi rifaccio molto alla cultura per quello che la mia pratica perché nella pratica deriva da lì quindi cerco spesso come dicevo poco fa cioè di spiegare in termini abbastanza occidentali mettiamola così per renderlo più comprensibile per avvicinare meglio le persone a queste divulgare di quello che che pratico e di cui io sono innamorato perdutamente importantissima questa cosa che che tu fai c'è questa trasposizione ma anche perché come marcello sa io sono una quasi non voglio dire devota perché andrei insomma anche un po ad esagerare del maestro oscio ed è un po quello che ha fatto anche lui con i suoi insegnamenti cioè trasporre quello che per il mondo occidentale diventa difficile da comprendere se fosse stato spiegato ma lo fanno in tantissimi nomi illustri al loro modo ce l'ho fa appunto oscio l'ho fatto ho provato a farlo gurge per con la scuola ha provato a farlo ma guarda anche entrando o meno nello spirituale lo stesso brusley ha provato e c'è anche riuscito forse più grande divulgatore della cultura orientale dei nostri tempi può non piacere commattore non piacere come praticante marziale ma è in dubbio che il modo in cui lui ha unito oriente e occidente in una maniera così mainstream e ha avvicinato queste due culture credo che non abbia fatto nessuno assolutamente è un merito che gli va dato io credo io credo mi permetto di intervenire perché comunque questo è un aspetto che molti io sono insegnante di yoga e comunque sono stato un praticante un formatore di shatsu quindi conosco abbastanza la un po le radici dalle dalle quali proviene la tua disciplina qualcosa anche perché io la mia disciplina proviene molto prende molto dall'india dello yoga tra l'altro certo no è che correggimi se sbaglio perché comunque se parlo della tua potrei fare delle inesattezze però per esempio sia lo yoga sia comunque credo che anche il tai chi chi kong in origine fossero comunque delle discipline che avessero uno scopo tra virgolette monastico cioè erano comunque per persone che si dedicavano totalmente a anima e corpo io parlo delle origini sì 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 rendere fru rendere fruibile all'occidente che avviene da un'altra cultura e viene da un'altra anche background da un punto di vista spirituale che avrà dei punti in collegamento ma è molto differente bisogna trovare un punto di congiunzione e quindi il grande merito di questi grandi nomi che hai detto è stato quello di trovare un punto di congiunzione altrimenti si correva il rischio di ridurre tutto a una sorta di ginnasti che basta insomma assolutamente questo è il tai chi per esempio è stato inventato appunto da un monaco che lo usava come arte marziale nasce con un'arte marziale arte marziale lenta ed è una cosa che bisogna fare molta attenzione perché tante volte si confonde quelli che sono gli esercizi di dei cip che poi non sono cioè quello che si vede molto spesso dove c'è solo il movimento da solo l'equilibrio va bene però tutto questo va anche ricondotto a quello che era appunto il motivo per cui è stato creato poi ci sono le evoluzioni per carità e i vari rami e anche famiglie tutti gli stili che ne derivano ma nasce in un certo modo nasce in un modo marziale nasce in un modo anche da un monaco quindi che ha un certo tipo di cultura anche sulla preghiera sulla respirazione sugli equilibri sul fatto di dedicarsi completamente a certe cose e nasce anche dalla cultura filosofica del taoismo che non è solo filosofia per chi già lo sa ma è è anche una religione può essere per strappo come nel buddismo può essere estrapolata sulla filosofia insomma di determini di questa pratica ma nasce anche con una religione con la sua spiritualità le sue divinità e tutto quello che c'è intorno in particolare in modo la cosa veramente interessante che è successa è che mentre insegnava ai suoi primi allievi un'arte marziale molto lenta faccia di proprio cezione faccia di respirazione fatta di tutte queste cose che abbiamo anche noi nelle nostre pratiche ma di cui spesso non notiamo e se fatte in quella maniera fatte lentamente ci portano a stare meglio si rendeva conto che i suoi allievi saranno e recuperavano da piccoli malanni perché poi non è che serve a guarire chissà quali grandi malattie però bello no però sicuramente da faceva recuperare da enormi benefici ma come tutte le pratiche fatte in una certa maniera fatte con l'idea di rallentare e non cercare quello che si cerca magari negli sport agonistici oggi per carità con tutto rispetto che è quello della performance in una determinata data all'estremo del fisico in brevissimo tempo no loro dicevano che io ci arrivo a superare i limiti ma ci arrivo un pezzo alla volta centimetro alla volta piano piano nel quotidiano in questo modo il corpo non si chiusura anzi sta sempre meglio imparo le cose ancora più approfonditamente e ho anche un corpo che si mantiene nel tempo anche quando invecchio non vado a rovinare le giunture quello che può essere la circolazione non vado a far legamenti anche a proposito del discorso che facevamo prima della danza tra l'altro poi la cosa interessante è che appunto come dicevo tai chi chuan precisiamo perché ci alza per pugno spieghiamo un attimo cosa significa tai chi chuan significa pugno della grande polarità o del grande equilibrio a questo è anche per il fatto del saluto di prima allora torniamo al l'ho fatto bene maestro l'ho fatto bene esatto l'ho fatto bene ok sì assolutamente sì tai chi chuan perché si aggiunge pugno perché per definire l'arte marziale perché tai chi è il simbolo in particolar modo tai chi rappresenta il simbolo dello ying e lo yang che normalmente viene definito come tai chi lu ovvero schema della gran del grande equilibrio esattamente quello vedere vediamo l'equilibrio estremo dove su cui si basa tutto quello che è il taoismo e che è una filosofia molto interessante a cui io mi ispiro per tutto ovvero dove c'è non c'è neanche questa polarizzazione negativo positivo in maniera brutta del termine negativo o buona del termine positivo cioè sono semplicemente due parti di qualcosa che esiste e non ci puoi fare niente non farne a meno e vanno attraversati un po come il discorso del buio della luce presumo no del pieno del vuoto cioè è anche rigenerarsi cioè la cosa poi interessante di questo simbolo che spieghiamo rapidamente anche per capire poi quello che si fa nella pratica del tai chi ma che può essere applicato in tutto è che come noi vediamo abbiamo due simboli opposti e all'interno di ogni simbolo un pezzo dell'altro quindi abbiamo un pezzo un punto nero nel bianco e un punto bianco nel nero questo perché perché entrambi inseguono quella parte e quindi quando arrivano al loro estremo quando l'alba arriva al suo estremo quindi la notte arriva al suo estremo diventa alba quando il giorno diventa al suo estremo diventa notte è bellissima questa cosa tra l'altro richiama anche la questione del femminile e del maschile giusto sì sì sono tutte parte non li vedono come contrapposti necessariamente ma in realtà sono due parti della dello stesso oggetto della stessa entità dello stesso essere la stessa unità in sostanza come il discorso dell'unità quando parliamo di equilibrio appunto io richiamo la questione del maschile femminile perché è una cosa diciamo che trovo anche per esempio per la quotidianità cioè nel senso quando diciamo perché l'uomo e la donna molte volte non si trovano nella quotidianità perché c'è a volte un disequilibrio no all'interno di ogni donna c'è una donna e c'è un uomo e come il discorso del del bisogna vedere in che quantità magari però sì è quello la cosa interessante che viene spiegata ad esempio nel tao te ching che è un libro fondamentale molto esoterico alla base di tutta quella che è la cosmologia cinese non solo del tai chi ma del del taoismo ma anche del buddismo e altre cose e che dice che questi due opposti si inseguono continuamente inseguendo si creano altre entità e quindi questo continuo movimento poi continua a creare entità fino ad arrivare alle diecimila creature del mondo chiaramente parliamo di cosmologia entriamo in qualcosa di più complicato ma è giusto per comprendere l'estremo di una porta all'altra e questo continuo flusso che c'è questo continuo cerchio crea la porta la creazione di qualcosa quindi gli opposti non si distruggono ma creano certo questa questa è la grande differenza col pensiero occidentale e questa probabilmente è stata la grande difficoltà di chi ha portato queste discipline perché noi abbiamo un pensiero a volte unilaterale e vediamo tutte le cose non secondo un ciclo di vita continuativo e trasformante ma noi vediamo le cose con un inizio e una fine assolutamente tendenzialmente solo ultimamente con l'avvicinarsi delle discipline perché io una parentesina lo stesso yoga parla comunque di due opposti che sono il shiva e shakti che insomma vengono mediati da dal prana insomma più o meno il concetto è molto simile a quello delle ognuno crea ogni cultura crea il suo schema ovviamente in base a quello però però questo questo per esempio è molto più di difficile riscontro in quelle che sono state le nostre scuole di pensiero formanti come come esseri occidentali e quindi per noi è molto più difficile secondo me avvicinarci a una filosofia di questo tipo piuttosto che praticarla cioè è molto più difficile il concetto alla base che quello pratico io credo che sia così per parlo almeno se uno non approfondisce come stai facendo tu o come fanno molti altri in tutte queste discipline ecco quello sì ecco perché poi dico portandola vediamo così portandola a livello occidentale non è altro che un modo di spiegare la natura anche questo noi usciamo la fisica la trasformazione dell'energia è quella l'energia non si distrugge non si crea si trasforma ed è esattamente quello che i cinesi a loro modo hanno spiegato in questo modo con il taoismo gli occidentali lo spiegano con la fisica e così via poi ognuno ogni cultura ha un suo modo di spiegare questo anche a livello religioso lo si fa noi infatti abbiamo abbiamo questa abbiamo questa diatriba per cui c'è una parte nostra con la scientifica con la prima legge della termodinamica che dice nulla si crea nulla si distrugge e tutto si trasforma che credo che sia una sintesi perfetta di quello che è la prima legge della termodinamica d'altro canto abbiamo delle filosofie o delle religioni tipicamente io parlo più che altro di filosofia perché la religione nostra non è una religione occidentale una religione medio orientale dobbiamo ricordarcelo sempre che è una religione importata la nostra che comunque non vanno contro questa prima legge della termodinamica e quindi alla fine noi dobbiamo andare a mediare attraverso la ricerca e lo studio di scienze e filosofie orientali come quella che stai portando tu questa sera andiamo a mediare e cercare di completare quello che è il nostro percorso di occidentali assolutamente ma poi basterebbe in realtà se rimaniamo nell'occidente e vogliamo tornare molto più indietro basterebbe tornare a quella che era la cultura greca per per trovare tante similitudini in questo senso certo anche rimanendo nell'ambito filosofico senza entrare in altre particolarità religiose e quindi si trova sempre ma anche nella mitologia che possa essere anche quella non rena o di altro genere ora siamo un po spaziato purtroppo magari però si rimaniamo sul pezzo però si vede spesso questo ciclo continuo di vita lo vediamo ovunque ed è interessante quindi poi tutti ricercano questo chiaramente poi ognuno con il suo sviluppo quello che storia eccetera se è arrivato per su altri punti sicuramente interessante da una possibilità di continuità ci fa capire anche come affrontare alcune situazioni e quindi poi qui arriviamo anche a ci aiuta molto ad esempio il tec in questo ma anche altre discipline nell'affrontare alcune situazioni di stress di stress perché comprendo che è una cosa che c'è non ci posso far nulla in questo senso allora cerco semplicemente adattarmi citando bruce lee che di cui abbiamo citato abbiamo parlato prima c'è un'intervista bellissima in cui lui fa tante citazioni importanti messe in una performance attoriale notevole in cui dice che bisogna essere come l'acqua e che l'acqua si adatta a qualsiasi cosa non può essere rotta non può essere piegata può essere semplicemente si adatta e questa cosa lui la esprime benissimo e alla fine dice sì come l'acqua che è una cosa che dice il taoismo non bruce lee negli anni 70 lo dice il taoismo 2500 anni fa le sue radici però chiare però lui ecco li troviamo la sua grande espressione di divulgatore si troviamo il massimo estremo di un attore che sapeva veramente fare il suo mestiere ecco tu invece come divulgatore come ti trovi a portare a un pubblico occidentale una disciplina che diciamo così non è di difficile non è di facile fruizione cioè essendo basata comunque su una filosofia così antica riesci comunque lo stesso a fare questa mediazione di sgiungere e creare un rapporto con la tua clientela di così di equilibrio anche in questo senso cioè tu riesci a farli praticare anche se non si interessano della filosofia per esempio assolutamente sì anzitutto perché io parto dal tai chi ripeto non come spesso si vede oggi che è quello che si vede spesso oggi è un tai chi più detto al qigong quindi al controllo dell'energia mettiamola così al ristar bene il mio tai chi è parte dalle radici quindi da quello che sono le arti marziali perché perché deve essere anche pratico perché la meditazione che c'è nel tai chi come perché niente c'è la meditazione come in tutte le arti marziali in realtà per quanto sia più evidente più estremizzata perché te ci viene chiamato appunto stile interno perché si lavora moltissimo su se stessi e su tutti quelle che sono respirazione controllo del corpo postura e quant'altro centratura di cui si parla anche molto con voi tutto questo deve essere anche un attimo destabilizzato dall'esterno ed è qui che entra la particolarità dell'arte marziale è facile fare la centratura è facile fare la meditazione stare tranquilli quando sto da solo e nessuno mi dà fastidio comodo va bene bello ci sono altre un'altra cosa scusate visto che vittorio mi senti questo avendo un po di problemi di connessione ok è una stessa cosa diciamo di è semplice meditare sull'altura no come fanno i monaci la cosa difficile è meditare nel mercato nel mercato cioè nel senso nella nella piazza come si dice no quindi più o meno è però sto pensando già da un po di tempo di correggerla questa frase che ricordo che oscio la disse ed è presente in tanti suoi libri sì io la vorrei correggere mi permetto nella mia umiltà di dire che è più difficile perché non è facile neanche meditare sull'altura assolutamente non lo è più difficile meditare nella piazza del mercato come non è facile meditare sull'altura bisogna comunque provarci ecco questo vorrei correggerlo in questo assolutamente sì 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 diciamo che mi agganciamo al discorso che è piuttosto semplice quando magari non ci sono problemi non ci sono comunque pensieri si è da soli in casa entriamo un attimo in questi dia il monaco fa quello dalla mattina alla sera ok nessuno gli dà fastidio la sua vita è fatta non è fatta di stress si allena per fare meditazione il suo fisico è preparato non solo il monaco cinese o taoista lo facevano anche i monaci cristiani che si isolavano nel nulla guarda io ho fatto l'eremita con i benedettini non è facile c'è una preparazione c'è uno stress anche libero ti dico c'è c'è una preparazione quindi è un tipo di stress differente noi oggi ancora di più che siamo trattati da una serie di input la cosa bella del teici e di poterlo occidentalizzare e che proprio io mentre sto cercando l'equilibrio la postura il respiro c'è qualcun altro nel confronto in coppia perché un confronto un esercizio non devo cercare di ammazzare l'altro in questo momento quando faccio un esercizio ma di creare disequilibrio e io cercare di mantenerlo non mantenerlo creando opposizione lavorando su inga young se arriva una forza di espansione uno young eccessivo io mi ritiro come gli ing lo porto questo young all'estremo stiamo tornando un attimo nel pratico per poi trasformarlo nel suo inga nel mio young quindi è un circolo di nuovo cercare l'equilibrio dal disequilibrio è bellissimo questa cosa è veramente molto 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 bello ci sarà sempre un motivo di disequilibrio il punto è come lo ricrevo una ricerca continua infatti o se sono troppo equilibrato per assurdo posso arrivare al disequilibrio perché poi a fine mi stanco estremizzando però penso che sia chiaro il concetto perché non è neanche tanto estremizzata secondo me non è neanche tanto estremizzata sì ma forse diciamo sì 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 che dite facciamo entrare il lettore siamo un buon punto il nostro lettore Antonio Ziparo che ci leggerà l'estratto di un libro bellissimo tra l'altro buonasera ciao a tutti buonasera ciao Antonio leggerò con piacere questo estratto dal libro di Maria Teresa Rotola oh grazie e insomma che appunto ci ci fa vedere anche da un punto di vista proprio messo appunto nero su bianco perché appunto abbiamo parlato di teoria filosofica di pratica adesso vediamo anche la divulgazione attraverso le parole di Maria Teresa Rotola di questi concetti di cui abbiamo parlato che poi tra l'altro sono le parole del maestro Vittorio Tangari perché io trasposto sul sul libro insomma quella che è stata la nostra conversazione quindi una sorta di intervista del del maestro Tangari per cui tutto torna poi è un termine maestro mi sta lo trovo ancora scomodo per quanto mi riguarda beh vabbè stasera te lo tieni perché te lo tieni stasera mi dispiace sempre per occidentalizzare le cose sì sì bene va bene dialogo tra due appunto praticanti della disciplina allora io comincerai a leggere e così ci entriamo in questo mondo prego il tai chi non può essere definito una pratica sportiva ma una disciplina di cui non è agevole fornire una definizione unica i movimenti sono svolti in modo circolare e con lentezza appaiono come una danza vanno eseguiti silenziosamente e senza interruzione pertanto questa arte marziale evoca l'idea della meditazione in movimento gli esercizi possono essere svolti anche con l'ausilio di armi specifiche oppure in coppia si tratta di un'antica disciplina nata in cina circa mille anni fa che consiste in un insieme di gesti lenti fluidi ed ampi come vittorio spiega chiaramente anche in apertura secondo i cinesi movimenti di tal fatta servono a migliorare e potenziare l'energia vitale ovvero il qi affinché quest'ultima sia messa in circolo non sono sufficienti però i movimenti è indispensabile infatti abbinare la corretta respirazione addominale da qui deriva la piacevolissima sensazione di rilassamento e calma interiore la maggiore concentrazione e lo scioglimento delle contratture da stress tra l'altro molto diffuso nel mondo contemporaneo la pratica costante dei movimenti lenti circolari e delicati ha un effetto benefico sulla circolazione sanguigna e sull'intero sistema nervoso nel tai chi la respirazione è fondamentale e la regolare pratica ne aiuta il controllo la lentezza della respirazione va ad ossigenare la parte bassa dei polmoni che in genere tende ad essere poco coinvolta dal processo respiratorio il tai chi nato come sistema di autodifesa è diventato sempre di più una pratica adatta a tutti volta al raggiungimento del benessere fisico e mentale il tai chi oggi è praticato sia da coloro che vogliono accostarsi alle arti marziali perché interessate al combattimento sia da coloro che cercano il benessere fisico con il tai chi si interiorizza disciplina e pazienza utili soprattutto per coloro che si trovano ad attraversare un periodo difficile la pratica del tai chi può rappresentare un valido grazie grazie di averci fatto questo onore grazie a voi di avermi invitato in questa puntata interessantissima a dare un piccolo contributo antonio vuoi fare una domanda all'istruttore vittorio si diciamo mille guarda allora prendiamone una tra mille domande mille osservazioni poi io da profano appunto sono anche rimasto molto molto interessato anche al discorso su bruce lee perché poi bruce lee in effetti appunto per me che sono un profano è stato un veicolo per conoscere un po la cultura orientale e tra l'altro nei suoi combattimenti faccio una piccola osservazione e molto spesso c'era proprio l'applicazione pratica di quelli che erano i suoi principi cioè lui scriveva le coreografie dei suoi combattimenti nei film assolutamente e lì lui diciamo proprio faceva un po la storia attraverso il combattimento di quella che era diciamo il modo di approcciarsi a una difficoltà per esempio mi ricordo così vado abbraccio alcune volte lui partiva da una situazione in cui lui stesso per esempio era troppo rigido perché seguiva sempre lo stesso schema quindi andava in difficoltà e superava la difficoltà adattandosi alla tecnica dell'avversario quindi queste ma d'utilità ecco questo si attacca molto a quello che è uno dei delle basi del del dell'idea taoista perché poi bruce lì molti non lo sanno è un personaggio che ha studiato anche filosofia quasi laureato in filosofia quindi e leggeva tantissimo era veramente molto avido in questo senso cioè leggeva veramente un'infinità di libri occidentali orientali qualsiasi cosa la cosa sicuramente interessante che è la nostra regia che ci passa tempestivamente le immagini la cosa molto interessante che passa al tuo pensiero è l'idea di vuoto e del fatto che deve essere tutto il più spontaneo possibile cioè il taismo si basa su quello si basa sulla spontaneità non è che c'è nel primo capitolo del libro del taoismo di di Lao Tzu dice proprio il tao che può essere nominato non è in realtà il tao che significa semplicemente che non lo posso definire è un qualcosa di spontaneo loro dicono che cos'è sto tao che cos'è questa questa via se la vogliamo chiamare via per semplificarla è il vuoto in realtà il vuoto dove tutto si può creare un vaso che può essere riempito è qualcosa in cui ci si muove spontaneamente appunto questo significa seguire il tao e quello è quello che poi cerca di diciamo semplificare il più possibile per chi non è avvezzo appunto a questo tipo di filosofie bruce lì in questo caso ma come tanti altri c'è proprio l'idea della spontaneità che ritorna anche oggi tra l'altro in occidente è infatti non è vedo una persona che mi fa innervosire non prenda schiaffi non è spontaneità no scusa scusami no 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 dicevo che il concetto di vuoto è un concetto molto profondo forse forse il concetto fondamentale da comprendere quando ci si avvicina le discipline orientali perché è un concetto che c'è solo almeno alle in antichità era solo relativo a queste filosofie perché parte da un concetto di base molto semplice ma che racchiude in dentro quasi tutti gli insegnamenti possibili cioè che quando c'è il vuoto puoi sempre costruire e quando invece c'è il pieno che c'è il pieno cioè non c'è più possibilità di aggiungere è un problema lì è un problema c'è un bellissimo aneddoto di un monaco praticante shaolin che non so se se può essere in linea con la trasmissione assolutamente in linea che accoglie questo ricercatore occidentale che vuole capire l'essenza della filosofia alla base del kung fu shaolin e allora dice sediamoci e prendiamoci un tè insieme che ti spiego allora si siedono e il monaco comincia a versargli il tè nella tazza versa versa dopo pochi istanti la tazza si riempie e il tè comincia a uscire allora il monaco continua a versare e guarda il ricercatore occidentale e il ricercatore occidentale a un certo punto gli dice fermati non vedi che pieno e lui dice fermati è un po come il tuo cervello non vedi che pieno finché non lo svuoti non potrai mai comprendere nulla della nostra filosofia parole proprio sante parole santissime a qui stavo pensando in realtà quando hai iniziato già con sapevi la fine della barzelletta di la verità qui almeno noi tre la sapevamo non lo so no io infatti non non la sapevo ma questa cosa sì no è molto interessante poi tutte queste cose che sono venute fuori perché io avevo anche questo tipo di curiosità se diciamo questa pratica e mi sembra insomma che stiamo andando in questa direzione cioè se questa pratica di ricerca di un equilibrio interiore da quello che appunto ho capito poi come diciamo come è possibile appunto proiettarla verso l'esterno cioè mantenere questo equilibrio interiore in una società che fondamentalmente è conflittuale come la nostra o comunque quando ci si viene a misurare con situazioni di conflitto ma è il motivo per cui ci esercitiamo adesso si risponde vittorio compiutamente perché io faccio esercizio anche in coppia piccola aneddoto storico il tai chi al fine del novecento era molto marziale dopodiché arrivò Mao Tse Tung lo vide praticare a uno dei maestri più famosi dell'epoca e disse mi piace questa cosa perché si muovono tutti insieme ed è una grande onda sai che c'è adesso lo prendi me lo impacchetti per bene me lo commercializzi un po' lo facciamo mainstream così tutti lo fanno mantenendo i principi però leviamo la parte marziale che non ce ne frega niente e quindi poi abbiamo quello che il teci che un po' tutti conoscono cioè quello che è dove si limita a farti star bene per carità ti muovi in un certo modo e poi finisce lì e dov'è tutto il resto dov'è il confronto che c'era nella parte marziale che poi è quello che poi ti aiuta realmente quando ti confronti con qualcos'altro se io credo se non ti abituo al disequilibrio come posso tornare in equilibrio se io non mi abituo a cadere mentre sto facendo un esercizio di equilibrio come posso cadere bene per poi rialzarmi c'è sempre quello è l'idea e poi è l'altro che ti fa cadere però giusto quello che vuoi dire tu è il confronto con l'altro se l'altro nella società ti fa cadere è nel grande la società quello che tu fai negli esercizi giusto assolutamente cioè quella l'idea tra l'altro è una cosa molto interessante che io ritrovo io ho praticato yoga non sono un esperto io l'ho praticato perché facendo l'apneista in passato ho fatto molto yoga e ho visto anche qualche altro tipo di meditazione lo yoga un po di più però la cosa interessante proprio quella cioè quando in tutti i tipi di meditazione poi ho trovato le comunioni ecco poi l'occidentalizzazione da parte mia vedo sempre la stessa cosa cioè io faccio degli esercizi quello che la gente mi spiega quello che io spiego per arrivare alla meditazione che poi viene usato sono esercizi di meditazione io ti porto a imparare determinate cose preparo il tuo corpo la tua testa il tuo respiro quindi al disequilibrio a stare tranquillo a rilassarti a respirare in un certo modo a focalizzarsi su certe cose perché poi una volta che sei rilassato che ti sei preparato nel modo giusto arrivi a meditare perché meditare almeno nel taoismo soprattutto è la massima spontaneità c'è l'obiettivo del taoista anche a livello religioso e la massima spontaneità e prepararsi per essere spontanei per non avere più legami di nessun tipo dal punto di vista mentale soprattutto nello stesso modo nel tai chi io preparo qualcuno e chiunque pratichi tai chi si prepara a gestire disequilibri ed è un esercizio continuo per quello e quindi il disequilibrio quando mi capiterà nel mondo normale quando io litigherò con qualcuno mi metterà a disagio cercandola di renderla molto semplice io prenderò quel disagio lo farò mio lo soffrirò perché lo soffrirai perché non puoi non soffrirlo perché è una fesseria ma lo gestirò in un modo diverso cioè vittorio è un po come la differenza tra risposta e reazione in sostanza che noi possiamo trasporre nella quotidianità per circoscrivere anche un po alla domanda del collega io posso avere una reazione contrastante ma posso avere una reazione avvolgente esatto io avvolgo e avvolgendo ho meno stress certo che è una cosa che poi mi porta invece a magari a prendere decisioni affrettate eccessiva a star male a lungo derma per assurdo quello del taoismo in cui l'obiettivo massimo la spontaneità perché perché devi essere felice è una cosa che in pochi che in poche pratiche lo si dice ma i taoisti lo dicono proprio chiaramente cioè il mio obiettivo essere e raggiungere la felicità questo è il nostro modo di farlo cioè portarti ad essere spontaneo in qualche modo poi ognuno ha il suo modo di portarti ad essere spontaneo però l'obiettivo è quello sì ed essere spontaneo non è penso di essere spontaneo perché solo il fatto che tu hai pensato il pensiero la mente deve essere proprio diciamo non voglio dire neutralizzata però insomma almeno in questo passaggio deve essere come uno specchio d'acqua riflette tutto ma non trattiene niente che è molto interessante come visione cioè le cose passano va bene comunque questa questo aspetto del questo aspetto della felicità lo diceva anche Dostoievski e non so se studiava il taoismo diceva che l'uomo non è felice perché non sa che il suo obiettivo è la felicità è un po' la stessa cosa sì in effetti è un po quello che poi quelle vette del pensiero che poi congiungono anche inconsapevolmente diciamo varie discipline oriente occidente sì è vero lui sì la cosa interessante facendo un piccolo parallelismo è che tante volte io ho riscontrato in quella che è la filosofia storica cinese negli aneddoti negli aforismi cinesi poi riportati da molti occidentali centinaia d'anni dopo mille anni dopo senza che conoscessero questi aforismi perché non è che c'era questa grande divulgazione prima del novecento ecco però vi motivi quindi è interessante come diversi uomini con diverse culture raggiungono stessi principi ed è perché semplicemente magari si sono fermati un attimo il nostro scopo di vita il nostro cammino è unitario cioè alla fine che io nasca qui in Emilia Romagna o che nasca nel in una pianura del Siam cioè alla fine il mio obiettivo principale dovrebbe essere lo stesso cioè quello della conoscenza del sé e del ricongiungimento con quello che è il tau cioè una cosa che non sappiamo nominare no quindi non so questo dovrebbe essere il nostro obiettivo unitario che poi si raggiunga attraverso la scrittura attraverso la musica attraverso il tai chi attraverso non cambia molto non cambia non cambia quello è cercare qualcosa che ti fa star vittorio ti posso fare una domanda che prima abbiamo diciamo bypassato nel senso che c'è un pezzettino dove parliamo di del c che ci si scrive q i giusto il cui io anche chi poi dipende dai dialetti la vuoi occidentalizzare però c c va benissimo ok siccome spesso si sente insomma parlare di questo c cioè vogliamo spiegare che che cos'è è un'energia è un energia interna per i cinesi in maniera orientale l'energia interna è quella parte che proprio secondo i cinesi tra l'altro è contenuta nei reni poi e poi viene controllata da quello che tantien viene chiamato che è un punto sotto all'interno dell'ombilico e la sto semplificando molto giusto per farci capire da chi ci sta seguendo e il punto sotto l'ombilico è importante perché serve a controllare infatti c'è la pratica del qigong si è gong qigong è letteralmente controllo del ci quindi imparare a controllare l'energia e a farci stare bene nel tai chi ci sono tantissimi esercizi in tal senso e poi ed è quello che ma c'entra con il controllo a proposito del pilates di cui stavamo parlando prima c'entra con il controllo e no è adesso io lo devo fare è un po diverso che è molto più vicino al core non c'entra nulla non c'entra niente è molto più vicino a quello che è il controllo che sia nello yoga o per gli indiani viene chiamato prana per al surdo ci sono altri tipi di energie che loro vedono la vogliamo occidentalizzare vogliamo fare questo esperimento che a me piace un sacco ed è occidentalizzandola è quella che è la nostra biochimica la vogliamo mettere in questo senso ok si è quella è l'energia che tu hai perché noi siamo parlando scientificamente in maniera puramente occidentale produciamo energia continuamente quando ci dicono durante le meditazioni ci dicono respirate dall'ombelico è un simbolo è un simbolo allora c'entra con il movimento dell'energia del del ci cioè facciamo questo tipo di discorso cioè se io vado a migliorare la respirazione e cambio la mia respirazione che collegamento c'è con livello energetico c'è con questo in questo senso cercano di vedere un flusso un flusso continuo dipende diciamo due flussi uno grande e uno piccolo non entro troppo nel tecnico se no ci perdiamo nelle cose più allucinanti ed è un flusso che va verso il basso oppure torna indietro in questo modo ci sono due tipi di flussi di energia che loro vedono e la capacità di poi spostare questa energia in tutto il corpo occidentalizziamo sempre la cosa cosa come possiamo vederlo non è come il il la circolazione che porta energia nel corpo che porta ossigeno ed è questo quindi forse per questo che molte volte a noi occidentali viene spiegato con il respiro forse per una questione di ossigenazione del corpo cioè per farci capire sì in realtà il respiro serve anche per rilassarci gli orientali lo hanno capito ma come non solo gli orientali come ho detto prima gli orientali lo spiegano in modo gli occidentali in passato lo facevano uguale faccio un esempio molto semplice la preghiera prima di mangiare cioè noi siamo quando tu quando mangi no di solito si usava fare la preghiera da noi non è solo per ringraziare del cibo è per fermarti un secondo respirare e quel momento di meditazione per farti godere al massimo il momento successivo la respirazione e questo è un esempio molto per farci capire quello che noi facevamo o qualcuno fa tutt'oggi ma non si rende conto il perché lo fa ma è una cosa molto importante questa cosa che hai detto perché è sottovalutata i riti religiosi oltre ad asservirti a quel che può essere il tuo dio o creare un rito hanno un senso fisico vero e proprio non penso di farti star bene sempre anche marcello che è stato con i benedettini probabilmente avrà visto tantissime similitudini con quello che fa nello yoga ho scoperto ho scoperto che i nostri alchimisti medievali avevano un concetto simili simile al c o al anche al prana perché non sono poi la stessa cosa è ci e prana no non lo sono però è per creare loro lo chiamavano pneuma ed era l'energia vitale che permeava tutto il creato loro la chiamavano la chiamavano in questo modo e però tutte queste cose sono sono svilupp si sviluppano attraverso anche la respirazione però non è così collegato in maniera indissolubile anche perché se uno ci pensa allora un asmatico non può elevarsi assolutamente uno che non respira che ha un problema respiratorio cosa fa della sua energia vitale non ce l'ha no ce l'ha lo stesso usa un altro canale perché il ci il prana il pneuma e quello che vuoi può arrivare anche attraverso altre cose si mi sposto un'altra cosa interessante che la respirazione si è collegata noi la vediamo in certo modo però è un modo è anche un esercizio è l'esercizio di base forse il primo che impariamo anche a scuola poi poi tante cose dimentichiamo e va bene oggi respiriamo ecco rientriamo un attimo anche su questo argomento che a me è molto caro che quello della respirazione perché nelle arti marselle lo si fa continuamente ma in tutte le pratiche anche a me vittorio molto 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 chiaro e secondo me salva anche molte vite cioè per chi capisce quando noi ci siamo dimenticati c'è qualcuno che diceva che siamo dimenticati come si respira e ce lo spiegano in primo elementare quando ti dicono metti la mano sulla pancia e respira con l'addome respira solo col naso la bocca non lo usare cioè le babba sarebbe già solo questa base utilizzata per tutti senza entrare in roba complicatissima 4 2 8 13 tutti i vari esercizi che esistono in tutte le varie pratiche dallo yoga mindfulness al tai chi o quello che volete basterebbe ridurre tutto a questa cosa semplice per chi non vuole sbattersi troppo lo sto mettendo veramente in maniera volgare ma può per essere il più vicino possibile magari atti con queste cose per rendere più semplice e più efficiente anche tutto ecco diventiamo anche più meno spirituali voglio essere più efficiente impara a respirare basterebbe quello l'uomo può stare 20 giorni senza mangiare una settimana senza bere 10 minuti se sei bravissimo senza respirare 10 minuti hai fatto un bel percorso 10 minuti hai fatto un bel percorso faccio i miei complimenti eh ma perciò serve l'allenamento fisico per gli ultimi 10 minuti poi dopo finito poi finito diciamo che ed è interessante come siccome è una cosa così spontanea perché per assurdo non serve uno sposto noi non proviamo neanche a controllarla ma se cominciassimo un attimo a farci caso otterremo dei risultati anche di stress completamente diversi scientificamente parlando controlli anche il sistema simpatico e parasimpatico entriamo un attimo un po più nell'assurdo dove il parasimpatico ti viene sviluppato meglio ti rilassa il sistema simpatico è quello che gestisce molto di più lo stress è quello che gestisce se ci pensi ai militari che non devono pensare cosa viene detto pancia in dentro petto in fuori veramente anche alle ballerine però però pensare neanche loro devono solo ascoltare il ritmo alle ballerine dicendo che ai militari stanno in prima linea le forze speciali però insegnano la respirazione della mindfulness per esempio dove impari a respirare per controllare lo stress per ragionare sempre essere lucido all'estremo perché loro sono loro devono essere molto più efficaci quella che dirige perché non è il militare che si va a lanciare ok sparatemi tanto come va va no è quello che fa tutto un altro tipo di dire quindi vittorio tornando alla praticità cioè volendo dire a casa cioè chi non ha molto tempo volendo migliorare appunto la condizione di stress c'è che consiglio possiamo 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 dare ad esempio antonio si fa mi sembra di aver capito che è molto lontano dal dal mondo giusto della meditazione del ho capito bene più o meno giusto a me diciamo piace appunto la spiritualità eccetera infatti ho apprezzato molto quello che ha detto marcello teniamo in mente che il cristianesimo è una religione che viene dal medio oriente e infatti il cristianesimo diciamo vero c'ha poco di occidentale c'entra poco con la nostra civiltà occidentale però ehm sì nel senso da un punto di vista pratico di queste discipline per esempio io non eh ne so ben poco appunto se ti dovessi eh se dovessi fare un esercizio di respirazione da solo a casa tu sapresti da dove iniziare ecco per capirci oppure magari un consiglio tipo da parte di vittorio insomma perché adesso stiamo parlando del tecnici potrebbe essere utile per dire prima di andare al lavoro dopo tornato dal lavoro no cosa posso fare per un attimo fermarmi e smaltire un attimino lo stress cioè vogliamo dare un tipo di consiglio del genere a chi magari non è proprio il consiglio è il consiglio più semplice del mondo perché poi magari c'è chi entra ma le cose più semplici a volte è più semplice perché tante volte si entrano i tecnicismi no no ma sono d'accordo però a volte sono così semplici per fare l'esercizio ci deve essere qualcuno che ti deve seguire se ti devo dare un consiglio su due piedi il mio primo consiglio che spesso qualcuno dice ma come fai a stare così tranquillo respiro ce ne stavamo parlando prima io respiro io mi fermo un attimo ti ricordi che stai respirando giusto cioè senza entrare in cose troppo ascetici fermati cinque minuti al giorno perché se non hai cinque minuti al giorno per te nella tua vita hai un problema partiamo da questo presupposto per te che dovresti essere la persona più importante della tua vita e diciamolo a caratteri cubitali a dire troppe cose inutili per quanto ci tengo sei tu la persona più importante punto diciamolo respira fermati voi cinque minuti svuotati svuotati che significa significa un attimo distaccati dal resto poi mille pensieri li avrai sempre non ci puoi fare niente quelli ti devi esercitare per arrivare un certo tipo di a un certo livello inizialmente ti stacchi da tutto il resto respiri solo col naso e ti rilassi e cerchi il tuo massimo momento di equilibrio punto nient'altro non devi fare nessun esercizio numeri tecniche no una cosa che al massimo guarda un tips in più che viene dalla mia disciplina non serve che ti siedi puoi farlo in piedi che è più comodo purché tu trovi il tuo equilibrio piedi larghezza delle spalle comodo cerca la struttura fisica in maniera equilibrata rilassato non teso elimina le tensioni e respira questo è così più pratico che io che io mi sento di dare ed è quello che quando c'è qualcuno che affretta anch'io capita delle giornate in cui magari sono incassinato non è possibile che siano tutte le giornate però io quei cinque minuti ma li prendo e non me li può negare nessuno cioè stacchi il telefono stacchi il cervello stacchi qualsiasi cosa e c'è c'è sempre quel tempo non sono cinque devono essere due va bene partiamo da due però quei due devono essere importanti poi fai diventare due e mezzo anche perché una cosa di cui parlavamo l'altra volta come re teresa non è che la meditazione è quella che pensano tutti monaco quattro ore a respirare e a fare versi per fare quella cosa un monaco ci mette una vita si allena una vita fa solo quello nella vita la meditazione parte per me che inizio io devo iniziare e se inizio inizio da un minuto poi diventano due quindi prendo il mio tempo è un pezzo alla volta e poi magari cerco anche qualcuno che mi che mi può essere come guida ora per iniziare sto da solo a casa respira solo dal naso chiudi la bocca e rilassati staccati dal resto nient'altro e sicuramente la situazione lo stress si riduce si riduce soprattutto è una cosa che faccio tutti i giorni in abitudine la rutina aiuta l'uomo l'uomo è un essere rutinario non ci giriamo troppo intorno tutti i giorni mi esercita anche quei due minuti mi esercito esercitarmi tutti i giorni quei due minuti mi aiuta a gestire meglio una situazione di stress antonio è stato chiaro il maestro l'istruttore tangari che che dici però di non essermi fatto prendere un po troppo dalla no no domani mattina comincerò con un bel respiro antonio antonio ma se cominci così no non si dice domattina stasera stasera per i cinesi due momenti di energia migliori sono appunto appena sveglio e prima andare a dormire ecco allora appena sveglio sia al massimo young perché hai caricato l'energia quando si andrà a dormire sei totalmente ying e quindi sei scarico e quindi è il momento di respirare mattina sera bene allora si svegli meglio dormi meglio insomma invece eventualmente qualcuno dovesse volerti chiedere qualche consiglio approfondito ti possono contattare sul tuo profilo facebook eventualmente giusto vittorio tangari senza maestro giusto senza maestro chiamo io senti vittorio questa è una cosa che di solito noi diciamo all'inizio ma diciamo alla fine perché abbiamo avuto altri passaggi importanti da insomma attraversare la tua in tuo interesse per questa disciplina che comunque non è propriamente almeno da quella che la mia esperienza non è proprio all'ordine del giorno insomma accostarsi alla disciplina come questa c'è come nasce come è nato il tuo interesse per questo questo io qualcosa per le pratiche marziali cinesi a me è nato come il 90 per cento delle persone che si avvicinano al kung fu o al karate eccetera cioè dai film che sono per quanto disprezzati o magari resi a volte considerati qualcosa di leggero sono oggi nel nostro mondo uno dei massimi livelli di divulgazione che si fosse il massimo livello di divulgazione che possa esistere dei film i film di bruce lì dice che c'è nero bambino anni yen e tutti i vari film cinesi del mondo mi capita e capitai vicino casa per passare davanti a una scuola di kung fu sono entrato mi è piaciuto il maestro che questa è una cosa che consiglio molto e che molti non dicono io non faccio una di perché mi piace a questa disciplina io dovrete stare anche maestri prima con cui mi confronto perché se io con quel maestro non mi trovo poi dirò che la disciplina non faceva per me magari il maestro sì sì ed è verissimo farei qualche test in più prima di abbandonare una disciplina che mi potrebbe appassionare io sono stato molto fortunato mi piaceva prima ho trovato il maestro i maestri giusti erano amore a prima vista mio maestro è ancora oggi il mio maestro quindi dopo vent'anni bello e poi ne ho provati tanti perché il mio maestro in primis mi ha sempre insegnato a provare altre esperienze da cui prendere da cui prendere corregge e quindi questo amore è cominciato a 16 anni 17 anni col kung fu un po più estremo quello dove ci si picchia un po di più dove molto c'è molto più combattimento il tai chi come tutti quelli che sono più andati gli stili interni quindi meno fisici e cresce col tempo c'è comunque un percorso che si fa e quindi poi io penso che anche l'età poi mi mi fa procedere di più a qualcosa di un po più tranquillo e meditativo perché mi permette quindi non sei partito da un benessere diciamo il tuo desiderio non è partito da un benessere mentale fisico invece si era partito dal benessere perché a me il kung fu piaceva star bene a 16 anni 17 anni a me piaceva saltare tirare pugni e avere anche quei momenti e cominciavo ad approcciarmi perché lo fai sempre nelle arti marziali quel momento di respirazione pausa ma era molto breve e l'allenamento da solo c'era ma era molto duro molto fisico ma per quell'età per quello che erano i miei impulsi per quello che era quel momento quel momento andava bene quella cosa lì noi evolviamo non sembra la stessa cosa quando a un colloquio di lavoro tempo fa mi chiesero quanto conosci di te la mia risposta fu il 70% perché restante 30% ovviamente non ti hanno preso insomma perché di solito quando rispondi hanno apprezzato allora però per assurdo è perché è vero c'è sempre un cambiamento io non sono quello che ero mezzografico ora che mi sono confrontato con Marcello e con te ho altre idee che cominceranno a lavorare hai detto la cosa dell'acqua prima Vittorio cioè il discorso dell'acqua cioè secondo me quella è la massima aspirazione per come la vedo io che noi dobbiamo avere cioè essere veramente fluidi come l'acqua perché l'acqua passa da sotto qualsiasi senatura passa attraverso tutto quanto e veramente riesce a prendere la forma di tutto quindi secondo me si collega moltissimo al discorso che stiamo facendo di cambiare perché cambiamo che è l'aneddoto della tazza vuota di Marcello cioè assolutamente la tazza poi la svuoto e riempio di altro però in quella tazza c'è ancora l'odore del tè di prima magari quindi è vero che la posso riempire però c'è qualcosa che comunque poi contribuisce a dare ancora un aroma diverso con la svuoto e c'è un aroma diverso ancora e questi aromi si mischiano e creano è molto anche questo è una cosa molto molto bella è quello di di quando è stato inventato ci sono otto scuole diverse di teici con alti stili perché i maestri arrivano e che fanno prendono la pratica e l'adattano al loro pensiero al loro momento di vita che poi cambiano di nuovo e la cambiano di nuovo c'è chi pratica arti marziali con dei maestri abbastanza seri si rendono dopo tipo due anni hanno imparato un certo tipo di tecnica o di movimenti e il maestro gliele cambia perché il maestro è arrivato a una nuova concezione di quella tecnica l'hai evoluta perché è un'arte e l'arte cambia è meno male, meno male, meno male ho dei principi che non vengono cambiati di base però poi vengono adattati alla persona se no non è un'arte l'abitudine per come la vedo io è parecchio dannosa, sempre un mio punto di vista cioè quelle cose, è vero come dicevi tu prima che l'uomo comunque è abitudinario però è bene andare a rompere un po' quelle abitudini perché ci permette anche di andare un po' a smussare con gli schemi che ci siamo fatti anche di noi stessi di come ci guardiamo allo specchio con l'idea di esercizio, con l'idea che quella cosa è migliore io devo essere meglio di quello che ero ieri non posso essere peggio devo essere diverso da quello che ero ieri meglio forse sbagliato diverso perché cambierà qualcosa qualche interazione ce l'avrò avuta per forza pur solo con la natura pur e solo col fatto che oggi c'è un mal di testa sono estremizzazioni le uso per far capire quello che poi è il mio concetto la mia idea di arte perché l'arte poi è l'espressione di quello che siamo è quello che ci fa star bene è verissimo arte marziale che ultima chicca prima di chiudere dal punto di vista storico è un'invenzione totalmente come termine occidentale nato nel 1600 da un inglese che non sapeva neanche esistessero le forme di combattimento in oriente e si chiama arte marziale perché viene da Marte grazie Vittorio perché ci hai dato anche queste perle che si chiama storici i cinesi non sapevano cos'era l'arte marziale prima di cento anni fa una curiosità ma qui tutte quelle che noi oggi conosciamo come arti marziali comunque fanno parte di questo diciamo di questa concezione ecco non è che ce ne sono soltanto alcune che rientrano diciamo in questo concetto del Kung Fu eccetera no sono tutte che fanno parte di questa galassia quale galassia? la galassia abbiamo parlato avete citato così il Tai Chi il Karate il Kung Fu che dovrebbe comprenderle tutte fatte in un certo modo sì poi fate attenzione ci sono arti marziali che sono una cosa e dividiamole da quelle che sono sport da combattimento che sono un'evoluzione diversa lo sport da combattimento ha delle regole quindi ha già dei limiti e già questo comincia a crearmi un problema con quella che è l'arte marziale intesa come la intendiamo oggi cioè quella orientale o anche altri tipi perché ci sono anche arti marziali occidentali che non sono fatto male e quindi già come l'ha in canale o nello sport nel dover vincere a tutti i costi nel dover formi degli obiettivi differenti da quello che è il miglioramento personale comincia a deviare quindi questo è uno sport da combattimento e gli arti marziali gli arti marziali spiegati in modo classico devono avere una parte filosofica devono avere un qualcosa che ti aiuti a lavorare molto su di te poi ci sono mille modi non ce n'è uno giusto o uno sbagliato devi semplicemente trovare quello che va bene col tuo modo di esprimere questa cosa assolutamente questa è un'altra cosa che secondo me dobbiamo dire a caratteri cubitali cioè che ognuno poi trova quello che è la sua disciplina che può essere arte marziale o può essere qualche altra cosa però è molto personale questa secondo me è un'altra cosa importante da sottolineare insomma ci sono anche degli sportivi che toccano questi punti ma perché oltre alla parte sportiva poi hanno una loro parte dello stesso tipo di disciplina che è molto artistica può succedere succede proprio con i praticanti di arte marziali che fanno entrambe le cose certo però le scindono non è facile però si può fare eh vabbè sì sì comunque sì dicevo Marcello tu vuoi chiedere qualcosa a Vittorio? vogliamo passare i saluti? come? ma io penso di avergli chiesto già abbastanza l'ho un pochino tormentato persona piena di spunti super interessante parlare con lui e quindi direi che possiamo vedere magari se qualcuno ha fatto qualche interazione con la commissione sì perfetto allora chiediamo alla regia di passarci i saluti le domande se ci sono io vi ringrazio tutti perché è stato veramente molto interessante chi per qualcosa e chi per altro ringrazio Vittorio ovviamente allora buonasera Maria Teresa e tutti i tuoi ospiti Natale primi grazie grazie Natale di esserci di tutto quanto dell'affetto buonasera Marcello ecco buonasera Vittorio sempre Natale primi argomento interessante sempre Natale primi buonasera a tutti Ornella Aprile con un bel cuoricino ciao Ornella un bacione buonasera Claudia Camarata con un cuoricino Natale primi buonasera a tutti Elvira Ro ciao Elvira Ornella Aprile ottimo intervento applicativo di Maria Teresa nella presentazione chiarissima ed interessante del Tai Chi una disciplina che non tutti conoscono è vero grazie Ornella con un battito di mani mi sembra un cuoricino Ornella Aprile è importante il confronto tra la mentalità filosofica e religiosa dell'Occidente e dell'Oriente verissimo sempre Ornella Aprile Gio Cancemi buonasera a tutti bravissima Maria Teresa e bravi tutti argomento molto interessante molto significativo e importante grazie grazie Gio dagli opposti si crea unità equilibrio e vita sempre Gio Cancemi effettivamente un presso di dietro eh sì infatti fa parte della famiglia tra l'altro Gio Ornella Aprile solo dal caos nasce una stella danzante diceva Nietzsche grazie Ornella Nietzsche consapevolmente era molto taoista in realtà infatti nelle cose che dice ci ha portato una perla Natale Primi buonasera Antonio buonasera grazie grazie Natale Ornella Aprile piacevole la lettura di un testo davvero molto interessante complimenti al lettore e all'autrice grazie grazie Ornella Aprile anche nell'insegnamento è più facile educare alla cultura i bambini più piccoli che sono tabula rasa piuttosto che gli studenti più grandi che hanno già competenze magari inesatte che non è semplice eliminare per nuove convinzioni corrette questo a proposito del discorso che facevamo prima del pieno e del vuoto insomma Gio Cancemi dagli opposti aperti che si compenetrano e come è stato giustamente detto si inseguono si crea unità equilibrio e vita grazie grazie Gio Ornella Aprile il punto sotto l'ombelico è sede del secondo chakra per cui è importante proprio per il controllo emozionale siete d'accordo con quello che dice Ornella entriamo in un campo in cui io non sono entriamo in un campo più da maestri io sono d'accordo con Ornella Marcello che dici? io vengo da un insegnamento sui chakra indiano tradizionale fatto là e quindi non posso esprimermi ok allora mi esprimo io come diciamo utente particolarmente interessata e avvezza la materia sono d'accordissimo con Ornella è un punto molto importante un chakra molto importante sempre Ornella Aprile già nella cittadella nelle cittadelle monastiche medioevali la preghiera scusate mi non riesco a leggere bene la preghiera prepandiale era espressione di gratitudine ma anche di rilassamento dei muscoli gastrici per favolire la gestione e l'assunzione dei nutrienti contenuti nel cibo all'epoca soprattutto di origine vegetale ah perfetto insomma ci sta dando una serie di di spunti belli interessanti Ornella grazie grazie Ornella attenzione Vittorio Ornella Aprile il respiro è proprio la caratteristica indispensabile per la vita per cui dovremmo imparare a respirare in modo da potenziare la salute e il benessere e il respiro effettivamente è importante grazie 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 Ornella dunque per rilassarsi la respirazione è fondamentale ma io trovo molto utile qualche minuto per esprimere gratitudine per tutte le esperienze della giornata effettivamente sì è importante sia la respirazione che insomma esternare quella che è la gratitudine per per quello che abbiamo come anticipato sulla parte spirituale io glisso un po' e ci siamo ci siamo noi ci siamo io e Marcello e vabbè Antonio Antonio è uno stimolo è uno stimolo è Antonio allora Natale I primi la respirazione ricordo che la praticavo in educazione fisica al militare quando marciavo quando marciavo la gamba dovevi alzarla assumendo una posizione di 45 gradi io però la mattina pratico respirazione dopo aver ascoltato alcuni insegnamenti che Maria Teresa spiega nel suo video di lezione devo dire che mi sento molto meglio grazie Maria Teresa grazie a te Natale della stima dell'affetto e della tua presenza grazie e sono felicissima insomma che ti sia ti sia utile ovviamente Carmen Triggiante Maria Teresa Rotola splendore grazie grazie Carmen complimenti a Vittorio e agli ospiti sempre top Claudia Cammarata grazie Carmen Triggiante che salutiamo con un grande abbraccio Natale I primi grande conduzione Maria Teresa con un cuoricino grazie Natale Ornella Aprile dovremmo essere flessibili come il giunco che non teme il vento perché appunto si piega ma non si spezza sembra debole ma è più resistente di una quercia solida e robusta che può essere sradicata proprio perché non riesce a piegarsi una grande verità Ornella è proprio così Ornella Aprile piacevole e molto incisiva la conduzione splendida Maria Teresa complimenti grazie 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 mille Ornella Aprile grazie per la bellissima serata e la trattazione di un argomento davvero interessante ringraziamo Vittorio visto che non vuole essere chiamato il maestro Tangari però insomma Natale I primi è stata una serata piena di argomenti interessanti complimenti a tutti per le chiare argomentazioni grazie Natale ci fa piacere insomma che è stata una serata stimolante interessante Elvira complimenti a tutti voi grazie per tutti gli interessanti interventi bravissima bella conduzione Maria Teresa un caro saluto a Vittorio grazie Elvira vediamo se sono finiti i nostri saluti ok sì sono finiti i nostri saluti benissimo allora ci salutiamo salutiamo tutti tutto il nostro pubblico a casa vi ringrazio tutti ringrazio Antonio di essere stato con noi di aver di averci onorato della lettura a me personalmente come autrice del libro Vittorio che insomma ci ha ci ha mostrato una parte importantissima del Tai Chi e del Kung Fu abbiamo insomma fatto una serie di approfondimenti grazie Marcello ciao grazie grazie a voi ci vediamo al prossimo appuntamento grazie a tutti con potenziamo la nostra spiritualità grazie Vittorio grazie a tutti grazie a voi a casa ciao grazie buonasera ciao 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 grazie a tutti